Buonasera, ben ritrovati. Ben ritrovati al ciclo di lezioni di storia Mondadori Education per l'anno 2022-2023. Con l'augurio per tutti che sia un anno più pacifico e più giusto del precedente, do subito quelle poche informazioni tecniche che chi ci segue da tempo già conosce, ma che sono comunque importanti per chi si collegasse per la prima volta. Questa lezione, come tutte le lezioni di questo ciclo, dà di ritorno attestato. L'attestato sarà disponibile nei prossimi giorni nella pagina Attestati del sito dell'editore, quindi all'indirizzo www.mondadorieducation.it. slash attestati, così come anche le slide che il relatore di questa sera, che tra poco introdurrò, vorrà condividere, vorrà presentare. Perché possiate avere l'attestato? È necessario che seguiate la lezione o ora, adesso, in diretta, in streaming, oppure in differita, ma entro la mezzanotte di oggi, quindi entro le 23.59 di questa notte, utilizzando il link che trovate nella mail ricevuta di conferma dell'iscrizione. Ma in ogni caso, a partire da domani, la lezione sarà disponibile nel canale YouTube dell'editore e riutilizzabile, come meglio credete, anche se volete a scuola. La cosa più importante, è quella a cui teniamo di più, potete interagire, diciamo, con il relatore, ponendogli delle domande, che potete scrivere nella pagina tuadomanda.it, utilizzando il codice 8256 che vedete in sovrimpressione, oppure inquadrando direttamente con il vostro smartphone il QR code, sempre in sovrimpressione. Le informazioni sono finite, introduco il relatore di questa sera, che è il professore Ivano Granata. Buonasera, professore. Il professor Granata ha insegnato storia dell'Italia contemporanea e storia dei partiti politici al corso di laurea specialistica in scienze storiche dell'Università di Milano. La sua ricerca si è concentrata in particolare sul fascismo, socialismo, sindacalismo e, in più in generale, sulla storia dei partiti politici. Il professore è un interlocutore dell'editore per quel che riguarda le sue pubblicazioni, ma ricorda in particolare, in attesa di suoi prossimi lavori per l'editore, Milano-Rossa, Ascese e declina del socialismo, 1919-26, del 2018. Il professore questa sera ci parla di un punto molto importante della storia di questo paese, e cioè la nascita della Repubblica e la ripresa dell'attività partitica, se dico bene, e cioè l'arco di tempo che va dal 1945, dalla fine della guerra, all'aprile del 1948. Io direi che ho detto quello che era necessario, lascio ringraziandolo, lascio la parola al professor Granata. Ci vediamo dopo per le domande. Grazie professore, buona lezione. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a coloro che mi ascoltano, e vorrei partire con due brevissime premesse, perché il tempo è veramente molto poco. La prima premessa è relativa al fatto che, quando insegnavo all'università, ho fatto molti corsi relativi agli anni in questione, e devo dire che dopo aver fatto il corso di 60 ore mi ritrovavo a dire che forse avevo ancora qualcosa da dire, quindi figuriamoci nello spazio di tempo che è così abbastanza ristretto. Io punterò soprattutto sui partiti politici, cercando di ricostruire un po' il ruolo dei partiti politici in questi anni che sono fondamentali per la nascita e per l'evoluzione della Repubblica. Devo anche dire che chiedo scusa anticipatamente se ogni tanto mi vedrete girarmi verso la mia sinistra, perché secondo la vecchia consuetudine universitaria ho fatto tutta una serie di schemi con i relativi dati, per cui ogni tanto ho bisogno di guardare. Prima di passare al ruolo vero e proprio dei partiti nel referendum e nella nascita della Repubblica, che è un po' l'aspetto più importante, vorrei fare un passo indietro per vedere quali erano i partiti a questo punto che sono sulla scena politica. Perché i partiti politici erano stati aboliti nel 1926, all'inizio di novembre del 1926, dal fascismo in seguito all'attentato Zamboni. Una parte dei partiti avevano poi continuato la loro attività all'estero, altri partiti avevano preferito smettere, e la situazione quindi nel momento in cui scoppia la guerra è più o meno la seguente. Ci sono dei partiti all'estero che tentano di avere dei rapporti attraverso centri interni, diciamo così, nel nostro paese, e ci sono dei partiti che invece compariranno poi, avranno un ruolo importante come vedremo in questo periodo, che nascono in realtà dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. In particolare, in particolare, occorre dire che la rinascita dei partiti o la formazione dei partiti comincia grossomodo nel 1942, quando il regime fascista comincia in realtà, a causa delle vicende belliche, a entrare in crisi. Tra i partiti, qui il problema è capire se si riforma o a un certo momento se è un partito nuovo, tra i primi partiti a nascere è la democrazia cristiana. La democrazia cristiana che nasce su iniziativa di un esponente dell'ex partito popolare, cioè De Gasperi, a cui si unisce l'attività dell'industriale FARC. Infatti, il partito nasce dopo alcuni incontri in Val Sugana e a Milano nella casa di FARC, nell'agosto-settembre del 1942, e alla nascita del partito contribuisce anche il movimento neo-guelfo di Malvestiti, che era nato durante gli anni del fascismo proprio in funzione antifascista. È l'erede del vecchio partito popolare o è un partito nuovo? In realtà il partito popolare aveva chiuso nel momento in cui Mussolini scioglie i partiti. Il partito popolare non aveva avuto una vicenda estera, diciamo così, come gli altri partiti. Quindi è, da un certo punto di vista, la rinascita del partito popolare, che era il partito cattolico del primo dopoguerra, in una maniera però completamente diversa. Nel senso, e qui anticipo una cosa su cui la storiografia ha discusso a lungo e che poi avrà anche un ruolo determinante nel secondo dopoguerra, che è data dal fatto che, è vero, la democrazia cristiana è l'erede del partito cattolico precedente, vale a dire del partito popolare. Il partito popolare era un partito cattolico che però nel suo nome non aveva il termine cattolico, come invece la democrazia cristiana ha il termine cristiano. Perché in realtà, secondo Don Sturzo, che era stato il fondatore del partito popolare, se mi passate l'espressione, non bisognava mescolare sacro e profano. Il cattolicesimo e il cristianesimo sono la religione, sono qualcosa di spirituale. L'attività partitica e politica è qualcosa di profano. Per cui Sturzo preferì evitare di mettere cattolico cristiano all'interno del nome del partito e tutto sommato non era nemmeno contrario all'idea che potesse sorgere un altro partito di ispirazione cattolica. Quindi il partito popolare era un partito cattolico. La democrazia cristiana invece sarà il partito cattolico, perché diventa il punto di riferimento dei cattolici e diventa il punto di riferimento anche nei rapporti con il Vaticano. Il programma del partito cattolico prevede la democrazia rappresentativa, non prende posizione in questa fase sulla questione istituzionale, favorevole al suffragio universale, favorevole alla difesa della famiglia e soprattutto all'educazione cristiana garantita dallo Stato. Nello stesso periodo rinasce anche il partito socialista. Ci sono primi incontri tra gruppi socialisti nel 1942, poi nasce un partito socialista il 20 settembre del 1942, fondato da Lizzadri e da Romita, che sarà il ministro dell'interno poi durante il referendum. Adesso si uniscono poi il movimento di unità proletaria, formato dall'Elio Basso nel gennaio del 1943, e nell'autunno del 1942 era assolta l'Unione Proletaria Italiana, che aveva tra i suoi fondatori, tra l'altro due personaggi che faranno parlare di sé nel periodo della Repubblica successivamente, cioè Zagari e Vecchietti. Il partito socialista nasce ufficialmente il 23-25 agosto del 1943 a Roma. Alla riunione formativa partecipa Nenni, che era appena stato liberato dal confino e che diventa subito segretario del partito. Con lui ci sono anche Pertini, futuro Presidente della Repubblica, che sarà vice segretario del partito, e un altro dei vice segretari del partito sarà poi Saragat, vale a dire i tre personaggi chiave del futuro della Repubblica. Il partito socialista era ovviamente per la società socialista, era contro la monarchia e soprattutto in questo periodo era favorevole alla fusione col PC per il fatto che esisteva il patto di unità d'azione che era stato stipulato in Francia tra il partito socialista e il partito comunista che univa i due partiti. Lo stesso partito comunista ricomincia a formarsi, un esponente comunista arriva nell'agosto del 1941 in Italia, si dà l'affare per creare tutte le cellule comuniste e poi quando rientrano dal centro estera Amendola e altri personaggi di primo piano del partito comunista comincia a formarsi una vera e propria attività comunista. Lo stesso si può dire del partito liberale, la cui nascita risale a un convegno a Napoli tra il 2 e il 4 giugno del 1944 e anche per il partito liberale come per il partito popolare si pone il problema del partito nuovo oppure è un partito che si rifà al passato. Il problema lo pose proprio Croce nel momento della fondazione dicendo noi ci rifacciamo al vecchio partito siamo un partito nuovo e l'Assemblea fece prevalere la visione di un recupero diciamo così delle vecchie tematiche e delle vecchie posizioni del partito liberale. Il primo agosto del 1943 uscì clandestinamente la voce repubblicana e no, non uscì in realtà clandestinamente perché il fascismo era già caduto a questo punto e questa data viene considerata dagli studiosi la data di nascita del partito repubblicano. Dopodiché invece i due partiti nuovi che si fondano i cui uno è importantissimo sono il partito d'azione e la democrazia del lavoro. Dunque il partito d'azione nasce il 4 giugno 1942 ed è formato da esponenti che ideologicamente si rifanno al liberal socialismo alla liberal democrazia in senso in senso lato a vari gruppi ci sono anche repubblicani nel loro ambito e soprattutto al vecchio movimento di giustizia e libertà di Carlo Rosselli. Gran parte di quella che sarà poi la classe dirigente del partito d'azione deriva da giustizia e libertà. e il loro programma è la separazione dei poteri nuovo stato in cui i poteri siano separati non come nel fascismo il regime repubblicano il potere esecutivo rigidamente controllato in ogni caso la nazionalizzazione dei monopoli la libertà sindacale. Il problema il problema vero del partito d'azione come vedremo che si sfascerà poi in una maniera abbastanza drammatica è dato dal fatto che generalmente in tutti i partiti politici esiste all'interno del partito un centro una sinistra e una destra di cui il centro diventa generalmente l'organo motore del partito appoggiandosi a destra o a sinistra a seconda delle circostanze nel partito d'azione il centro non c'è ci sono due ali un'ala collocata a sinistra e un'ala collocata a destra che creeranno poi tutta una serie di problemi interni al partito che come vedremo porterà poi alla sua alla sua fine l'altro partito è la democrazia del lavoro fondata dall'ex presidente del consiglio Ivanoe Bonomi che si rifà chiaramente ai partiti di prima del fascismo e che nel nel 44 cambierà nuove diventando partito partito del lavoro è un partito che si pone l'obiettivo di porsi come punto di riferimento per il mondo laico ma che in realtà non riuscirà ad avere un grande seguito detto questo caratterizzati i partiti che svolgono poi la propria azione durante il durante il periodo precedente alla alla nascita della Repubblica il vero discorso comincia in realtà il 9 settembre del 1910 1943 i partiti escono allo scoperto dopo la caduta del fascismo ma il governo Badoglio non gli lascia spazio dopo l'8 settembre cambiano completamente le cose tant'è vero che il 9 settembre nasce il Comitato di Liberazione Nazionale che raggruppa tutti i partiti presenti in quel momento se mi passate l'espressione su piazza con l'esclusione del Partito Repubblicano il Partito Repubblicano infatti ha la pregiudiziale antimonarchica mentre invece la questione della formazione del futuro Stato italiano non è ancora stata discussa all'interno dei partiti politici ci sono partiti decisamente repubblicani ci sono partiti come per esempio il Partito Liberale in cui la monarchica è nel complesso piuttosto forte quindi la pregiudiziale repubblicana impedisce ai repubblicani di entrare nel Comitato di Liberazione Nazionale a questo punto il Comitato di Liberazione si comincia a discutere sulla futura forma dello Stato italiano vengono fatti anche vengono mandati anche documenti al re perché a un certo momento decida quale deve essere la sua posizione ci sono contrasti all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale e a un certo punto però il tutto viene risolto nel momento in cui ritorna in Italia Togliatti Togliatti torna in Italia nel marzo del 1940 scusate nel marzo del 1944 e viene subito convocato una riunione del Partito Comunista e il primo aprile del 1944 esce un documento in cui si chiarisce qual è la posizione del Partito Comunista il Partito Comunista dice che occorre consolidare le forze democratiche per combattere il nazifascismo e per garantire una futura evoluzione democratica ma soprattutto dice che la questione istituzionale sarebbe stata risolta solo alla fine della guerra e questo è l'aspetto veramente importante dopodiché Togliatti dice che sarebbe necessaria la formazione di un governo con l'adesione dei partiti di massa quindi a questo punto cade il governo Badoglio e viene formato il nuovo governo Bonomi che a un certo momento deciderà di fatto quello che sarà il futuro prima di parlare un attimo della decisione del governo Bonomi occorre anche dire che il cambiamento del Partito Comunista perché è importante rispetto al futuro dunque il Partito Comunista diventa a un certo momento il Partito Nuovo Partito Nuovo un partito della classe operaia che si propone di intervenire però nella vita politica del paese e che abbandona la vecchia posizione di critica che aveva tenuto in passato perché l'idea è quella della costruzione di un regime democratico dove oltretutto a differenza di quello che si è sempre sostenuto da parte dei partiti comunisti il Partito Comunista garantisce che non farà obiezioni sull'esistenza di tutta una serie di altri partiti politici che potranno in qualche modo arrivare al potere ma soprattutto insiste moltissimo sul fatto che è un partito nazionale italiano questo è il punto vero da qui poi gli studiosi creeranno tutta una serie di distinzioni all'interno del Partito Comunista ma sarà lo stesso togliati a usare il termine democrazia progressiva per indicare l'evoluzione del Partito Comunista Speriano che è stato forse il più importante studioso del Partito Comunista dice che la democrazia progressiva è l'intreccio tra la democrazia popolare e la democrazia rappresentativa ecco quindi questo va tenuto presente per la futura evoluzione poi del Partito Comunista il formatosi il governo Bonomi c'è un decreto del 25 giugno del 1944 in cui sulla nuova formazione diciamo così dello Stato italiano ma soprattutto sul suo aspetto costituzionale il decreto dice che a fine guerra verrà eletta l'assemblea costituente a suffragio universale che sarà questa assemblea a scegliere la forma di Stato e a preparare la nuova Costituzione quindi il referendum che sancirà la nascita della Repubblica in realtà non avrebbe mai dovuto essere fatto perché la scelta della della nuova forma istituzionale sarebbe stata decisa dall'assemblea costituzionale qui sorvolo su una serie una serie di aspetti che sono quelli i partiti parteciperanno alla resistenza nel nord Italia che il governo Parri è il primo governo che si forma dopo la dopo la fine della guerra ed è un governo in cui già i partiti cominciano a litigare tra di loro perché tutti i possibili candidati alla guida del governo subiscono vetti da parte dalle altre formazioni viene scelto Parri che è un esponente del partito d'azione che è stato un grande combattente ma assai meno abile sul piano politico il suo governo durerà pochissimo andrà avanti fino a praticamente al novembre del 1945 quando a questo punto verrà formato il governo De Gasperi con l'appoggio anche delle sinistre il governo è formato dalla DC dal PC dal dal partito socialista che aveva il nome di partito socialista di unità proletaria cioè PSIUP dai liberali dal partito d'azione e dal partito del lavoro a questo punto una volta instaurato il nuovo governo si pone appunto il problema delle elezioni per la per la costituente che come ho detto avrebbe dovuto decidere la formazione la formazione attraverso la costituzione di un nuovo Stato in quel periodo comunque cominciano a circolare tutta una serie di ipotesi sul fatto che a detta di molti soprattutto dei monarchici l'assemblea costituente sarebbe stata troppo sbilanciata a sinistra ed essendo troppo sbilanciata a sinistra la monarchia non aveva nessuna possibilità di rimanere la forma costituzionale in Italia su queste su questa ipotesi che poi come vedremo è fasulla perché la costituente anche questa è una cosa che non viene generalmente detta molto la costituente in realtà ha una maggioranza di centrodestra come vedremo su questo su questo aspetto comincia a prendere forma l'idea di affidare la scelta della formazione del nuovo Stato attraverso un referendum istituzionale spinge in questa direzione spingono i monarchici in questa direzione spingono anche gli alleati spinge il Papa le gerarchie ecclesiastiche molti dei cattolici presenti in Italia e di questo l'ADC deve tenere presente perché una parte del suo elettorato è sicuramente cattolico De Gasperi a un certo momento pensa ad un tipo di soluzione che porti in realtà al referendum e la pensa in questo modo prima si fanno le votazioni per l'Assemblea Costituente una volta fatte le votazioni per l'Assemblea Costituente si proroga il luogotenente dunque voi sapete che in realtà il re spinto spinto da in realtà da Croce e da De Nicola nel 44 aveva deciso di non tanto di abdicare quanto di lasciare la carica operativa per così dire al figlio che diede origine appunto a questa istituzione che si chiama luogotenenza e di cui Umberto divenne il cosiddetto luogotenente il luogotenente doveva scadere nel momento in cui veniva eletta all'Assemblea Costituente a meno che non continuasse la monorarchia quindi De Gasperi pensa le elezioni per l'Assemblea Costituente la proroga della durata dell'attività del luogotenente ancora per 5 mesi da Costituente avrebbe fissato i principi della Costituzione e quindi si sarebbe svolto il referendum le sinistre sono contro a questo tipo di soluzione per cui la situazione comincia a farsi abbastanza complessa all'interno del paese e si corre il rischio in realtà di arrivare poi a scontri anche all'interno la soluzione la trovò Nenni Nenni mentre andava a fare un giro elettorale si sentì dire lo scriverà poi lui nel suo diario che la cosa che contava in assoluto per i militanti socialisti era che si facesse la Costituente e si facesse presto quindi Nenni a un certo momento fa l'equazione dicendo che la cosa veramente importante è la Costituente e la Costituzione che verrà fatta dalla Costituente non tanto la forma dello Stato che sia monarchia ossia Repubblica a questo punto finisce poi per essere indifferente quindi l'idea di Nenni è quella facciamo pure il referendum facciamolo insieme alle elezioni per l'Assemblea Costituente ne parla con Togliatti il giorno dopo Togliatti è d'accordo ne parla ne parla con De Gasperi De Gasperi a sua volta è d'accordo e quindi questo questo viene deciso con un con un decreto legge no viene a questo punto fissata la vengono fissate le elezioni per la Costituente e il referendum nella data del 2 giugno questo decreto poi e le norme di attuazione creeranno poi una serie di problemi come vedremo c'è tutta una serie di elezioni amministrative tra il marzo e l'aprile del 1945 da cui il risultato maggiore dal punto di vista numerico va la democrazia cristiana 1.252.000 voti contro i 982 del PC e i 916 dello PSIUP gli altri poi sono in forma inore quindi la democrazia cristiana già cominciava a dimostrare di poter essere il partito diciamo così che avrebbe ottenuto un certo rilievo all'assemblea costituente poi come sapete il re spinto dal figlio deciderà di abdicare l'ammiraglio Stone che era il plonipotenziario degli alleati in Italia sostenne che in realtà l'autoproclamazione da un certo punto di vista di Umberto di Umberto II a re d'Italia violava la tregua istituzionale perché l'accordo era che non dovevano esserci cambiamenti di nessun genere fino al momento in cui fosse stata decisa la forma dello Stato il governo non fu d'accordo su questa linea preferì andare direttamente a votare come poi avverrà ecco in questa in questa fase in questa fase ci sono le posizioni dei vari partiti allora i partiti tengono tutta una serie di congressi per decidere e deliberare un po' in merito alla nuova forma dello Stato il primo il primo congresso che si tiene è quello del PC alla fine del alla fine del 1945 in cui Togliatti ribadisce il ruolo nazionale insiste molto sul ruolo nazionale del PC e ovviamente il PC si pronuncia per la Repubblica mentre invece drammatico fu il congresso del partito d'azione che si tenne dal 4 all'8 febbraio del 1946 perché si fronteggiarono in pratica la sinistra e la destra come ho detto non c'era il centro all'interno del partito del partito d'assero la sinistra era rappresentata da Emilio Lussu la cui idea era quella di portare poi il partito d'azione a confluire in pratica nel partito socialista come poi avverrà successivamente il l'ala destra invece che aveva in la malfa forse l'esponente di maggior prestigio diceva che era prematuro pensare a cose di questo genere occorreva in realtà andare avanti e rafforzare la democrazia poi si sarebbe visto che cosa che cosa sarebbe successo in realtà poi ci sono altre posizioni all'interno del partito tant'è vero che vengono presentate addirittura quattro mozioni con quattro mozioni congressuali e secondo secondo un'espressione usata dagli stessi sostenitori del partito d'azione quello che occorreva al partito era quello di dare una sforbiciata alle ali nel senso una sforbiciata a destra una sforbiciata a sinistra in modo da creare una corrente di centro che potesse decidere la politica del partito Parri a un certo momento di fronte alle quattro mozioni chiede ai relatori delle mozioni di rinunciare alle mozioni e di appoggiare la sua mozione che è una mozione unica che va nella direzione in cui si diceva cioè quella della creazione di un centro del partito alcuni di coloro che avevano presentato le mozioni accettano altri no soprattutto Codignola che rimproverò anche Parri di andare oltre quello che era il suo ruolo istituzionale e di voler favorire la destra del partito questo crea ovviamente tutta una serie di posizioni differenti ma anche di contrasti all'interno che fa sì che a questo punto Parri non solo rinuncia la sua mozione ma esce dal partito e con lui esce anche la Marfa e tutti coloro che erano schierati su determinate posizioni questo indebolirà fortemente il partito d'azione pari alla Marfa formeranno il movimento democratico repubblicano che non avrà tanto successo e poi finirà nel partito repubblicano ma garantirà loro l'elezione all'assemblea all'assemblea costituente poi il partito d'azione come vedremo otterrà poi risultati risultati mediocrissimi e poi decideranno poi alla fine il passaggio all'interno del partito socialista il partito socialista tiene il suo congresso in aprile il partito socialista è diviso tra coloro che sostengono il patto di unità d'azione coloro che addirittura vorrebbero la fusione col partito comunista e un'ala riformista invece che guarda il socialismo europeo le forze all'interno del partito si equivalgono si cerca di dare un tono di unità al partito ma in realtà le differenze ci sono e sono profonde dal punto di vista della scelta la scelta è chiaramente per la repubblica il congresso della democrazia cristiana a sua volta decide per la repubblica in una maniera però un po' particolare nel senso che i democristiani avevano fatto una serie di referendum nelle sezioni per capire qual era l'orientamento dei loro iscritti e avevano votato sul quesito repubblica o monarchia ben 836.000 iscritti di cui 503.000 erano favorevoli alla repubblica quindi su questa base il partito decise con una mozione che il partito in quanto tale era a favore della repubblica però lasciava libertà d'azione e libertà di coscienza soprattutto a tutti gli iscritti questo aveva anche uno scopo politico che era quello di recuperare gli eventuali monarchici di recuperare alla democrazia cristiana quei monarchici che avrebbero votato per la monarchia al referendum istituzionale ecco il partito liberale invece che tenne il fu l'ultimo partito a tenere il congresso tra il 29 aprile e il 4 maggio del 1946 si pronunciò a favore della monarchia Croce aveva presentato una mozione in cui faceva un po' come la democrazia cristiana cioè lasciava libertà di coscienza ai propri elettori ma prevalse invece la mozione di Edgardo Sogno che negli anni 70 poi verrà accusato di golpismo il quale invece portò il partito sulle posizioni della della monarchia a questo punto il 2 giugno si tenne il referendum costituzionale e delle elezioni per la Costituzione allora il referendum il referendum istituzionale diede questi sono i voti definitivi perlomeno quelli che sono riportati nei testi 12 milioni 717 mila 900 voti a favore della Repubblica 10 milioni 769 mila 284 voti per la monarchia e 1 milione 498 mila 154 voti di schede nulle o bianche o aggiungendo ai voti della monarchia i voti delle schede nulle si arriva a 12 milioni 267 mila 438 voti per cui la Repubblica vinse per 450 mila 490 voti la regione che votò in assoluto votò maggiormente per la Repubblica fu il Trentino dove ci fu l'85% di percentuale per la Repubblica e poi l'Emilia Romagna con il 77% una volta però che la Repubblica era nata ci fu subito il ricorso da parte dei monarchici perché ci fu il ricorso da parte dei monarchici perché tra il decreto e le norme di attuazione era stato fatto un pasticcio in quanto il ricorso dei monarchici in Cassazione era basato sul fatto che nel decreto stava scritto che per essere valida l'elezione cioè la formazione vincente avrebbe dovuto avere la maggioranza dei voti degli elettori votanti mentre invece mentre invece il conteggio venne fatto sulla maggioranza dei voti validi perché se come si chiama se ci sono 100 persone se ci sono 100 persone che vanno a votare la maggioranza è 51 se però 10 schede sono nulle si scende a 90 su 90 la maggioranza chiaramente è 46 ma è la maggioranza dei voti validi non la maggioranza dei votanti e quindi basandosi su questa interpretazione cercano di fare un ricorso alla Cassazione la testa al toro la tagliò il re andando in esilio il 13 di giugno e poi la Cassazione il 18 giugno dirà che la maggioranza dei votanti andava intesa come la maggioranza dei voti validi quindi una volta una volta nata una volta nata la Repubblica si vota per l'Assemblea Costituente allora non sto a dire proprio tutti la democrazia cristiana ebbe 8 milioni 100 mila voti lo PSIUP 4 milioni 700 mila voti il PC 4 milioni 300 mila voti i liberali 1 milione 560 voti l'uomo qualunque 1 milione 210 vote il partito repubblicano 1 milione di voti i monarchici 636 e il partito d'azione 334 l'uomo qualunque era l'altro partito nato poi in questo in questo periodo era nata inizialmente come una come una rivista il primo numero riuscì il 27 di dicembre del 1944 il direttore e fondatore è Guglielmo Giannini un commediografo Giannini era un uomo di destra ma non era fascista questo bisogna bisogna dire attraverso l'uomo qualunque dà voce a quello che è il il popolo medio diciamo così quello che lui dice le persone a cui non dovete rompere le scatole Giannini ce l'ha in modo particolare con la classe politica ce l'ha con l'antifascismo perché l'antifascismo stava all'estero e non faceva niente e questi vengono qui adesso a dirci che cosa dobbiamo che cosa dobbiamo fare e sostiene che in realtà il paese non ha bisogno della politica dei politici ha bisogno di essere amministrato e per essere amministrato basta un bravo ragioniere bravo ragioniere che dal primo gennaio al 31 dicembre governi e poi sparisca per il resto non c'è niente ce l'ha col governo pari ce l'ha con tutti i governi ed è l'espressione proprio dell'uomo qualunque l'uomo qualunque scomparirà alle elezioni del 48 e vedremo anche che sarà determinante per un determinato aspetto ha lasciato però il termine qualunque ispro nel linguaggio politico italiano è un termine che si usa ancora oggi questo è il punto il giornale di Gianni la rivista di Giannini arriva a 850.000 coppie alla fine del 1945 pensate che anno è e pensate al numero di coppie dopodiché Giannini si rese conto che non poteva andare avanti solo col giornale ma occorreva un partito la sua idea in realtà era di entrare nel partito liberale come corrente di destra e di spingere il partito liberale su una certa direzione Croce e gli altri gli sbarravano la strada e formò il partito dell'uomo qualunque che era il partito che raggruppava in pratica i moderati conservatori di destra soprattutto del sud a cui questo nuovo tipo di politica fondamentalmente interessava poco quindi ritornando invece alle elezioni della costituente emergono alcuni dati positivi cioè che tenendo conto che l'assemblea costituente in realtà ha una maggioranza di centro-destra perché considerando i deputati che ottengono la DC i liberali l'uomo qualunque e i monarchici sono 294 mentre invece i voti ottenuti dalla sinistra considerando i repubblicani come sinistra laica e mettendo il partito d'azione a sinistra sono 249 e che la percentuale elettorale delle elezioni dà una maggioranza del 50,02% alla formazione di centro-destra quindi questo aspetto dell'assemblea costituente non è mai stato tenuto nella debita considerazione perché in realtà si è sempre cercato di dire che l'assemblea costituente poi sinistra e democristiani fanno il bello e il brutto questo è anche vero da un certo punto di vista ma la formazione dell'assemblea costituente è diversa da quella che si riteneva si nomina il primo presidente della Repubblica provvisorio anche qui c'è tutto un gioco di veti incrociati e alla fine su proposta di Togliatti tra l'altro dunque Croce salta ad esempio perché è troppo laico altri saltano perché non sono graditi politicamente su proposta di Togliatti verrà eletto presidente della Repubblica De Nicola De Nicola era monarchico e al referendum aveva votato per la monarchia e quindi questa è una delle tante contraddizioni del nostro paese ricordo che anche il primo presidente effettivo della Repubblica Luigi Einaudi al referendum aveva votato per la monarchia ecco quindi qui adesso farei due considerazioni sulla sulla Costituzione dunque su un aspetto poi ritorneremo perché è fondamentale dunque la Costituzione in realtà nacque dalla collaborazione appunto dei partiti di sinistra con la DC in realtà i vari articoli della Costituzione furono generalmente votati a larga maggioranza e in taluni casi furono approvati con maggioranze diverse non sempre ci fu una maggioranza tra la democrazia cristiana e le sinistre gli obiettivi erano di garantire la libertà dei cittadini di assicurare la partecipazione del popolo alla vita politica e di valorizzare gli aspetti sociali tra i come si chiama tra gli articoli che videro una maggioranza diversa ne vorrei citare due perché uno poi diventa estremamente importante in realtà perché serve nel futuro e cioè l'articolo 29 della Costituzione è quello dedicato al matrimonio nella versione originale della commissione del 75 che fu quella che fece la Costituzione il matrimonio veniva considerato indissolubile un emendamento del comunista Gullo che venne appoggiato dai partiti laici fece togliere il termine emendamento e passò con 194 voti a favore e 191 contrari allo stesso modo un emendamento dei partiti laici fece aggiungere dove si parlava nell'articolo 33 dove si parlava del diritto alle scuole private di essere fondate e di essere presenti fece aggiungere senza oneri per lo Stato questo aspetto poi come sapete è caduto ma anche qui furono i partiti laici quindi come vedete si va avanti con maggioranze con maggioranze diverse in talunni casi la scelta la scelta i costituenti si posero anche il problema della Repubblica presidenziale o della Repubblica così come è strutturata e scelsero la seconda perché l'esperienza fascista era ancora troppo troppo vicina due una piccola una piccola battuta una piccola battuta al volo che riguarda l'articolo 1 della Costituzione perché credo che l'articolo 1 della Costituzione lo conoscono tutti cioè l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro allora le sinistre avrebbero avuto soprattutto togliati sui lavoratori oppure con termini diversi alla fine si scelse l'addizione fondata sul lavoro e l'addizione è di Amintore Fanfani che sarà a lungo poi uno dei protagonisti di punta della vita della vita politica della vita politica italiana l'altro aspetto è che in realtà noi ci dimentichiamo invece molto spesso la seconda parte dell'articolo 1 della Costituzione perché l'articolo 1 dice che è una Repubblica fondata sul lavoro ma poi dice la sovranità appartiene al popolo che lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e questo secondo me non sempre viene ricordato andando andando avanti si forma i partiti dopo la nascita costituente si riforma il governo i partiti di destra escono si forma il famoso tripartito DC PSI PSI appoggiato in questo caso anche dal PRI non sto a soffermarmi su tutte le vicende relative all'attività di governo sta di fatto che alla fine del 1946 De Gasperi si annuncia di andare negli Stati Uniti dove viene invitata in forma privata chiederà un prestito alla Exit Bank l'Exit Bank ci darà 100 milioni di dollari per la ricostruzione in realtà non avevamo chiesti molti di più allora su questo viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti è stato detto e scritto molto soprattutto si è sempre detto che una volta arrivato negli Stati Uniti De Gasperi si sarebbe sentito dire di estromettere le sinistre dal governo non è vero è vero il contrario nel senso che fu De Gasperi che negli Stati Uniti disse ai governanti che avrebbe modo di incontrare che avrebbe poi estromesso le sinistre come sarebbe avvenuto poi analogamente in Francia comincia la guerra fredda c'è la dottrina Truman che dice che gli Stati Uniti aiuteranno tutti coloro che si sentiranno oppressi dai comunisti Churchill in un famoso discorso a Fulton dirà che sull'Europa dell'Est era calata una cortina di ferro insomma la situazione stava cambiando ma non sono gli Stati Uniti a dire a De Gasperi di escludere è De Gasperi che va a fare questa proposta questa proposta sarebbe stata possibile subito dopo il ritorno di De Gasperi in Italia perché nel frattempo quelle beghe chiamiamolo così che esistevano all'interno del partito socialista tra i sostenitori della fusione col PC o perlomeno dell'appoggio col PC e i riformisti arrivano a un certo momento i nodi vengono al pettine come si suol dire si si convoca un congresso straordinario che viene tenuto al nel gennario del 1947 ma prima del congresso straordinario Saragat e i suoi sostenitori escono dal partito danno origine al partito socialista dei lavoratori italiani PSLI che diventerà successivamente partito socialista democratico italiano PSD quindi è evidente è evidente che una volta una volta ritornato in Italia i socialdemocratici sono usciti dal governo e De Gasperi deve rifare il governo e rifà un governo di partiti tre partiti perché rifà un governo di partito se negli Stati Uniti aveva detto che avrebbe escluso le sinistre non era il momento di escludere le sinistre ci sono due problemi il primo problema è quello in realtà di trovare la maggioranza all'interno dell'assemblea costituente secondo luogo è dovuto al fatto che ci sono due aspetti su cui De Gasperi vuole l'appoggio anche delle sinistre il primo è il trattato di pace che avviene nel febbraio del 1947 che è molto oneroso per l'Italia e De Gasperi vuole che la sinistra sia corresponsabile del fatto che il governo accetta il trattato di pari il secondo punto è quello del famoso articolo 5 diventato poi articolo 7 della Costituzione che è quello dei patti lateranensi allora i patti lateranensi sono uno sbaglio nella Costituzione perché sono un accordo tra due stati diversi che non dovrebbero rientrare nella carta costituzionale dei singoli paesi però la democrazia cristiana che era legata al Vaticano che era legata al mondo cattolico in un certo modo eccetera eccetera insiste per portare avanti all'interno della Costituzione l'inserimento dei patti lateranensi Togliatti cerca di mediare dicendo che nella Costituzione si scriverebbe che vengono regolati da accordi senza citare esplicitamente i patti lateranensi cosa che non passa il problema vero qual è? che la Commissione dei 75 approva la versione dei patti lateranensi ma in aula in realtà non c'è la maggioranza per approvarla non c'è la maggioranza per approvarla perché se il Partito Comunista vota contro difficilmente gli accordi sarebbero passati durante la discussione De Gasperi abbandonò il suo posto dalla presidenza del Consiglio per andare nel suo scanno diciamo così all'Assemblea Costituzione fece un lungo discorso e disse che l'inclusione dei patti era necessaria che non erano modificabili e soprattutto disse che un voto contrario avrebbe aggiunto ai nostri guai un ulteriore guaio il quale non può rafforzare il regime repubblicano questa affermazione di Togliatti su cui anche qui la storiografia ha insistito a lungo in realtà scusate in realtà venne visto da parte del Partito Comunista come un tentativo di sganciamento dalla democrazia cristiana dalla Repubblica e dalla possibilità di ritornare nuovamente a un referendum istituzionale con la democrazia cristiana schierata dall'altra parte queste ripeto sono interpretazioni storiografiche che poi i comunisti insistono per cui Togliatti spinse il partito a cambiare completamente la propria posizione e quindi al momento decisivo votò a favore dell'articolo 7 della Costituzione che venne approvato che è quello dell'inclusione dei patti lateranesi che venne approvato con 350 sì 149 no qualcuno che ha fatto il conto ha detto che comunque se il PC avesse votato contro il provvedimento sarebbe passato lo stesso con una maggioranza di 5 voti perché il PC decise in quel modo perché c'era il desiderio di evitare all'Italia una guerra di religione questo il PC è sempre stato attento la speranza di continuare il dialogo con la base cattolica anche fuori dalla DC e il il fatto che gran parte del proprio elettorato era cattolico e che quindi non bisognava andare contro il proprio il proprio elettorato e e poi c'è un c'è un aspetto che era abbastanza abbastanza interessante che è quello che nella posizione di coloro che non volevano l'articolo 7 venne visto un carattere radicaleggiante e piccolo borghese tipico di certe preoccupazioni laicistiche irrilevanti se giudicate sulla base degli interessi di classe questa è un'affermazione che fece Celeste Negarville che all'epoca era uno dei principali esponenti del partito comunista e l'ho detto semplicemente perché è la stessa posizione che avrà poi il partito comunista nel divorzio sorvolo su tutti gli aspetti relativi al come si chiama all'attività di governo il governo entra in crisi perché De Gasperi provoca la crisi nel mese di maggio e a questo punto le sinistre vengono estromesse a dare il voto decisivo però per il sostegno della maggioranza senza le sinistre è l'uomo qualunque che De Gasperi De Gasperi non accetta i voti dell'uomo qualunque conosce però la posizione dell'uomo qualunque e ovviamente non lo fa entrare nel governo né gli dà né gli dà dei vantaggi questo sarà decisivo nel senso che Giannini appoggia il governo De Gasperi il governo De Gasperi a questo punto sta in piedi per i voti dell'uomo qualunque ma non non ottiene niente in cambio fino a quando Giannini si stufa di questo di questo tipo si forma appunto questo nuovo governo monocolore democristiano che poi nel mese di dicembre sarà allargato ai liberali ai repubblicani e ai socialdemocratici si scoccia però Giannini di tutto questo tipo di situazione per cui quando a settembre vengono presentate una serie di emozioni di sfiducia al governo Giannini decide che l'uomo qualunque voterà contro il governo questo vorrebbe dire la caduta del governo con prospettive inimmaginabili dopodiché esiste in politica un vecchio detto che dice se non puoi sconfiggere i tuoi avversari politici comprami quindi la democrazia la democrazia cristiana a questo punto qui bisognerebbe entrare in dettagli che ovviamente non ho il tempo non ho il tempo di fare la democrazia cristiana attraverso Achille Lauro che sarà poi uno degli esponenti di punta del partito monarchico convinse una parte del dell'uomo qualunque a votare a favore del governo con la con la promessa che nell'ambito di vari partiti sarebbero stati presentati per le elezioni politiche del 48 la Confindustria a sua volta tirò fuori un po' di quattrini per favorire questa così e il governo riuscì a mantenere la maggioranza per 30 voti per 31 voti grazie al voto di De Gasperi che votava sempre per se stessa e ai 30 voti dei dei qualunquisti dopodiché andiamo rapidamente alle elezioni del del 1948 il le sinistre decisero di presentarsi nel fronte popolare il fronte popolare lo volle Nenni memore di quello che era successo in Francia nel nel 36 quando lui si trovava in Francia dal punto di vista dei socialisti fu uno sbaglio clamoroso e dal punto di vista i comunisti togliati non voleva il fronte popolare però nel frattempo era nato il Cominform che aveva duramente il Cominform era questa organizzazione dei partiti comunisti su cui sovrintendeva Mosca che aveva duramente attaccato le posizioni giudicate quasi borghesi del 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 PC per cui a un certo momento visto che il Cominform era favorevole anche il partito comunista accettò la campagna elettorale fu durissima vi furono grosse contraposizioni e venne vista fondamentalmente la scelta tra il mondo occidentale da un lato e la scelta del comunismo dell'altro allora alle elezioni e qui chiudo la democrazia cristiana ottenne 12 milioni 740 mila voti il 48 e 51 per cento 305 deputati che da soli avevano la maggioranza assoluta in Parlamento il fronte popolare ebbe 8 milioni 136 mila voti con una percentuale del 30 98 ben inferiore alla somma dei voti avuti dei due partiti nel 46 che era il 39 5 unità socialista che era il PSLI e qualche altro gruppo socialista 1 milione 800 mila voti il 707 per cento e poi tutte le altre il blocco nazionale formato dai liberali e dall'uomo qualunque un milione di voti i repubblicani 650 mila voti il partito nazionale monarchico 729 mila voti e il movimento sociale che è un altro di quei partiti che nasce nel 1946 e si presenta all'edizione del 48 di cui purtroppo non ho tempo per parlarvi e ottenne 526 mila voti il 2% ma anche 6 deputati allora una considerazione finale sulle elezioni del 48 che rappresentano la svolta all'interno del nostro paese rappresentano la svolta perché indicano da un lato la presa di potere dalla democrazia cristiana che andrà avanti a lungo ma da un altro lato anche segna la fine della possibilità che le sinistre possano governare nel paese e questo fu capito da una parte dell'elettorato i voti che ottenne la democrazia cristiana non li ottenne perché tutti coloro che votarono la pensavano ideologicamente come la democrazia cristiana ma semplicemente perché gli elettori scelsero il grosso partito anticomunista proprio in funzione di arrestare di sbarare la strada alle sinistre quelli che votarono per la democrazia cristiana non erano solo democristiani erano liberali erano probabilmente anche una parte dei vecchi fascisti erano anche repubblicani che votarono per la democrazia cristiana perché serviva il partito grosso per sbarare la strada all'avvento delle sinistre determinando anche da questo punto di vista la vittoria della democrazia cristiana e la sua capacità di prendere il potere queste considerazioni vanno tenute presente e qui chiudo per le elezioni del 1953 perché a un certo momento io ho detto che una parte dell'elettorato capì che la sinistra non sarebbe mai arrivata al potere e quindi quelli che erano liberali tornarono a votare liberali quelli che erano missini votarono a questo punto per i missini la democrazia cristiana ebbe un forte calo in tutte le elezioni amministrative che si tennero dal 348 al 53 tanto da arrivare alla compilazione di quella famosa legge che dava a chi otteneva il 50,1% alla coalizione che otteneva il 50,1% dei voti la maggioranza di due terzi di seggi in Parlamento che fu definita legge truffa che rispetto alle leggi fatte poi negli anni 90 e successivamente in Italia era fior di legge e che però servì perché De Gasperi in un certo momento capì che non avrebbe mai più avuto la stessa numero di voti che aveva avuto in precedenza e che quindi il potere della democrazia cristiana si riduceva nel 53 come sappiamo poi il premio di maggioranza non scattò e quindi da lì comincia un'altra storia un'altra storia d'Italia vi ringrazio per l'attenzione mi scuso se non sono riuscito a completare tutta una serie di aspetti ma come dicevo prima gli argomenti sono tanti e il tempo è poco grazie professore davvero illuminante la lezione abbiamo qualche minuto quindi proviamo a io provo a girarle alcune domande arrivate e a cui sarà necessario dare delle risposte concise dunque una mi pare molto interessante perché è più sistematica più generale si chiede come mai in Italia i partiti prolificano al contrario di altri stati dove al massimo ne bastano due o tre perché una buona parte dei partiti politici italiani sono ideologici e quindi le ideologie sono molte in altri in altri paesi in Inghilterra per esempio ci sono due tre partiti perché c'era il vecchio partito liberale che poi è sparito che corrispondevano corrispondevano all'ideologia socialista l'ideologia conservatrice l'ideologia liberale negli Stati Uniti ce ne sono addirittura solamente due anche se anche lì la situazione va cambiata perché corrisponde a un certo modo di fare politica portato avanti dai da quelli che sono stati i primi politici i padri fondatori coloro che poi ottennero l'indipendenza nel nostro paese invece ci sono i cattolici ci sono i marxisti ma i marxisti sono poi socialisti e comunisti poi all'interno dei socialisti ci sono i rivoluzionari e i riformisti i liberali sono schierati qualcuno su certe posizioni liberali e qualcuno su altri poi c'è la capacità tipica degli italiani che io sto dentro un partito e se nel partito non mi va bene a un certo momento riesco e fondo un altro partito faccio solo un esempio che non c'entra niente con quello che abbiamo detto ma nel 1994 quando viene fatta poi la nuova legge elettorale si sta pensando di arrivare al bipolarismo cioè una destra e una sinistra punto e basta allora in realtà nel 2000 a un certo momento in Parlamento ci sono la bellezza di 30 partiti ecco spero di essere di aver dato una risposta esauriente sì c'è una domanda che insistente vorrei chiedere al professore che relazione c'è la leggo tra partito dalla democrazia cristiana del 42 movimento democratico cristiano di Romolo Murri e opera dei congressi poi azione cattolica la DC secondo lei è più vicina al movimento di Murri o all'azione cattolica al movimento di non ho capito non è più di Murri o all'azione cattolica no nel senso il movimento il movimento di Murri fu uno dei primi tentativi di dare diciamo così uno sbocco politico al a quello che poteva essere un elettorato cattolico bisogna tenere presente che a quell'epoca c'era il non expedit e quindi l'impossibilità di creare un partito cattolico quindi Murri si muove attraverso tutta una serie di elaborazioni diciamo così che sono dal tentativo di passare dal movimento religioso al movimento poi politico che verrà poi stroncato da parte del Vaticano in realtà la democrazia il punto di riferimento della democrazia cristiana è il partito popolare perché gran parte dell'iniziale classe dirigente della democrazia cristiana sono tutti personaggi che vengono dal partito popolare e venendo dal partito popolare hanno un certo tipo di concezione della politica a cui aggiungono come dicevo prima quel concetto di cristiano che però è diverso rispetto a quello di Murri secondo me sono tre cose diverse nel senso la democrazia cristiana di Murri è una cosa il partito popolare è poi un'altra cosa e la democrazia cristiana da 42 in poi è una terza cosa tra l'altro ricordo che proprio Sturzo tenne presente l'esperienza di Murri e della democrazia cristiana tenendo presente però che non avrebbe dovuto fare come aveva fatto Murri cioè non andare in quella direzione infatti andò in una direzione completamente opposta una delle prime domande arrivate a cui lei in parte ha già risposto perché come dire si è soffermato molto sul partito d'azione non si chiede soltanto il perché della sua precoce scomparsa ma anche della sua eredità cioè dove sarebbe confluita si chiede l'eredità del partito d'azione sì è giusto è una cosa che avrei dovuto dire e che è molto importante dunque il partito d'azione si sfascia ma il problema vero è dato il problema vero come ho detto è dato dall'assenza di un incendio però il partito d'azione sopravvive attraverso i suoi principali esponenti io ho un elenco che adesso non leggo chiaramente che il tempo ce l'abbiamo ho un elenco in cui ho 30 nomi di personaggi del mondo della politica della cultura storici che nel secondo dopoguerra saranno tra i maggiori rappresentanti del nostro paese che provengono tutti dal partito d'azione la Malfa Norberto Bobbio Federico Chabot Riccardo Lombardi Francesco De Martino che poi sarà segretario del partito socialista ecco il problema poi del partito d'azione è che essendo strutturato da una parte sul liberal socialismo dall'altra sull'idea del socialismo vero e proprio una parte di quelli che vengono dalla Ciampi ad esempio un altro dei personaggi che viene dal partito d'azione sarà presidente della Repubblica poi una parte di coloro che vengono dalla sinistra del partito d'azione finirà poi nel partito socialista l'altra parte finirà in buona parte nel partito repubblicano Oronzo Reale che sarà anche poi segretario del partito repubblicano oppure diciamo così lascerà la politica per dedicarsi poi ad altre occupazioni altre età ma la presenza del partito d'azione nella Repubblica è attraverso i suoi esponenti enorme un'ultima domanda che è una mia curiosità se mi permette la bibliografia che chi ci ascolta e chi ci segue troverà nell'ultima delle sue slide e di questo la ringrazio a nome di tutti coloro che l'hanno ascoltata perché è una bibliografia di riferimento importante prevede sostanzialmente opere storiografiche di storia un suo parere sulla utilità a scuola io penso in particolare della lettura dell'orologio di parte dell'orologio di Carlo Levi per capire quel rumore di leoni che si sentiva a Roma la notte con cui si apre il romanzo cioè romanzo che viene di solito ricordato come un importante documento storico ma anche una chiave interpretativa per capire l'immediato dopo lui dunque lei dice se il romanzo può essere attendibile come fonte storica sì o se usato a scuola possa servire per capire quel periodo snodo piuttosto questo perché non andrei adesso a cercare l'attendibilità la risposta è sì allora io nella bibliografia mi sono limitato a mettere le ordine storiche però io ho sempre sostenuto che anche attraverso i romanzi c'è la possibilità di riuscire a capire un certo tipo di situazione del paese da un lato e dove ci sono riferimenti dei partiti da un altro per esempio io ho fatto molti studi sul fascismo io consiglio a tutti ad esempio la lettura del libro di Scurati perché al di là di certi sbagli storici il libro di Scurati fa capire realmente cos'è stato il fascismo in Italia eppure è un romanzo fatto in un certo modo ma è un romanzo il metello di Pratolini contribuisce moltissimo a far capire che cos'è il movimento operaio e cos'è l'Italia all'inizio di secolo quindi è evidente che nella bibliografia a un certo momento il discorso è quello relativo alle opere storiche i romanzi servono così come servono i diari perché io ad esempio il tempo non me l'ha permesso avevo un paio di citazioni dal diario di Nenni che da sole servono di più a capire la situazione che non le opere storiche da questo punto di vista quindi per tutti coloro che fossero interessati in realtà sia la cosiddetta memorialistica e sia soprattutto i romanzi certo dei romanzi bisogna poi fare la tara questo è ovvio il discorso sono secondo me utilissimi per la conoscenza degli aspetti del periodo che si prende in considerazione un romanzo peraltro scritto da un azionista come Carlo Levi un romanzo scritto peraltro da un azionista come Carlo Levi sì 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 certo 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 grazie professore è stata davvero una bellissima lezione io la ringrazio a nome di tutti coloro che ci hanno seguiti e ricordo soltanto prima di salutare lei e il nostro pubblico che la prossima lezione di storia sarà il 25 gennaio e sarà dedicata alla didattica della Shoah insegnare la Shoah costruzione e ricostruzione della memoria pubblica una tavola rotonda con Filippo Benfante Orsette Innocenti e Laura Bergallo Ricordo anche che però il 18 gennaio per chi fosse interessato incomincia il ciclo di lezioni di lingua italiana con una lezione di Giuseppe Antonelli sull'italiano precedente professore che dire grazie è stata davvero una bellissima illuminante lezione io ringrazio tutti coloro che sono stati ad ascoltarmi spero di essere stato abbastanza esauriente avrei avuto tante cose da dire ma il tempo è quello che era ringrazio ringrazio lei e magari avremo modo di rivederci assolutamente sì buona serata grazie buona serata anche a voi grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti